Musica Buongiorno a tutti voi, buona domenica e ben ritrovati al nostro consueto appuntamento con l'informazione del TG4 di Telecupole. In apertura di giornale oggi ci occupiamo di viabilità e infrastrutture, linea ferroviaria Novi Genova, ancora disagi per i pendolari. I lavori sul nodo ferroviario del capoluogo Ligure si stanno protaendo. Sentite i dettagli. Proseguirà fino al 2026 il problema dell'attestamento dei treni provenienti dalla Valle Scrivi a Genova Principe. I prossimi tre mesi saranno i peggiori. Lo sostiene la PN, l'associazione dei pendolari novesi, che con il suo presidente Pernigotti ha preso carta e penna per rivolgersi ancora una volta alla regione Liguria, nella cui competenza ricade il contratto di servizio con Trenitalia. Per i lavori del nodo ferroviario di Genova, collegati a quelli del Terzo Valico, da più di due anni i treni che arrivano da Novi Ligure, da Roncoscrivia e sono diretti a Genova, terminano la loro corsa alla stazione di Principe anziché proseguire fino a Brignole. I disagi per i viaggiatori non sono pochi, costretti a prendere al volo coincidenze che spesso nemmeno esistono. L'interruzione della linea sarebbe dovuta terminare a fine del 2022, ma non è stato così. Finora non è stato rispettato alcun cronoprogramma sui progetti di potenziamento del nodo, a rimarca Pernigotti. Diventano quindi doverosi rimborsi o compensazioni, secondo l'associazione. Durante l'ultima assemblea dei pendolari della Valle Scrivia è stato sottolineato che le ferrovie non hanno messo in campo alcun intervento di mitigazione. Le richieste dei pendolari noveesi inviate all'assessore regionale Ligure ai Trasporti Augusto Sartori sono le medesime da diverso tempo a questa parte. Consentire ai possessori di abbonamento l'accesso gratuito a tutti i treni, agli autobus e alla metropolitana tra Principe e Brignole. Istituire un bonus per i disagi subiti che possa essere utilizzato come sconto sull'abbonamento successivo. Reintrodurre alcuni treni serali per il rientro in Valle Scrivia al venerdì, sabato e domenica. D'ora in avanti il passaporto lo si potrà ritirare anche in posta. E' quanto prevede il progetto Polis che riguarda i comuni con meno di 15.000 abitanti. Per dicembre dovremo poter già essere operativi, affermato il condirettore generale di Poste Italiane. A febbraio invece sarà la volta della carta di identità elettronica e dei servizi dell'Agenzia delle Entrate. Ed ora invece in primo piano i primi 40 anni della Fondazione Faro, l'ente no profit, che offre assistenza e solidarietà in maniera gratuita. L'orgoglio, la nostra gioia in questo momento è quello di aver visto realizzato tutto quello che avevamo immaginato esattamente come lo avevamo immaginato. Quindi con tanta partecipazione delle persone, della gente, di quelli che ci vogliono bene e che sicuramente avremmo contribuito a formare in termini di culture delle cure palliative, in termini anche di attenzione al prossimo, di attenzione a chi soffre e sicuramente lo speriamo anche di donazione e attenzione verso l'Afaro come ci hanno sempre garantito negli altri 39 anni. L'Afaro fra 40 anni me la immagino ancora in mezzo al tessuto sociale, ancora più di adesso, ancora più vicino a chi soffre. Noi in questo momento assistiamo circa 1.500 famiglie all'anno, ne vorremmo arrivare ad assistere ancora di più. Ci stiamo capillarizzando su tutto il territorio e con l'organizzazione che noi abbiamo credo che siamo destinati a impattare e durare sempre di più nel tempo. Il prossimo 11 novembre invece le sedi delle pubbliche assistenze saranno aperte il pubblico in contemporanea in tutto il Piemonte per l'Open Day Ampas, una giornata di festa da trascorrere insieme alle volontarie soccorritrici e volontari soccorritori Ampas che hanno predisposto per l'occasione programmi con molteplici attività rivolte a persone di ogni età. Ed ora invece ci spostiamo a Vercelli, la capitale europea del riso, ma non ha un evento apposito per celebrarlo e spunta l'ipotesi di una fiera nel 2024. Alba ha una fiera che da 93 anni celebra il tartufo, Casale è in festa in queste settimane brindando con i vini del Monferrato, Gattinara ha appena chiuso un'edizione da record dell'uva, a Isola della Scala, patria del vialone nano veronese IGP, la fiera del riso appena inaugurata dura un mese e attira da 55 anni mezzo milione di visitatori. E Vercelli? Al momento la capitale europea del riso, patria di Carnaroli, Arborio ed è l'unica DOP del riso in Italia, il Baraggia, rimane a guardare gli altri celebrare le loro eccellenze. In attesa di un grande evento che potrebbe vedere la luce nel 2024, se nel capoluogo o altrove non è ancora dato sapersi. Lo hanno detto al Principato di Lucedio, le principali realtà che ruotano attorno al comparto, la strada del riso vercellese di qualità, che ha convocato nella culla del riso europeo gli associati alla quarta conferenza annuale dell'ente. Poi Enterisi, Ovest Sesia, Consorzio a tutela riso di Baraggia, Camera di Commercio, Provincia e Comune di Trino. Una fiera del riso piemontese, come l'ha ipotizzata il presidente della strada Massimo Biloni, potrebbe tenersi nel periodo delle semine, al contrario di Isola della Scala, che omaggia l'oro bianco a fine raccolto. Ma a portare tutti con i piedi per terra ci è pensato Paolo Carrà, presidente di Enterisi, che ha ricordato come piccole iniziative singole non portano da nessuna parte. Bene la festa dell'uva di Gattinara, ancora di più l'iniziativa originale Sushi e Sake realizzata a Trino, ma questa non è la via giusta, dobbiamo essere meno autocelebrativi e più presenti sul territorio. Impariamo a concentrarci su un evento di rilievo, come fanno Alba e Casale, o Verona, dove litigiosità ce ne sono, ve lo assicuro, ma c'è un progetto condiviso che porta ogni anno 500.000 visitatori. Non dobbiamo raccontarcela tra noi, ma fuori facciamo un unico evento, vero e di rilievo. Oltre 4 milioni di euro per finanziare progetti culturali sul territorio cittadino per i prossimi tre anni. Questo, in sintesi, l'obiettivo dell'iniziativa Torino che cultura, sostegno all'economia urbana nel settore della cultura, approvato dalla Giunta Comunale Torinese. Bene, questa era anche la nostra ultima notizia. Termina qui l'informazione con il Tg4 di Telecupole. Vi lascio alla vignetta di Gianni Soria e vi ringrazio per la cortese attenzione. Ancora buona domenica a tutti voi, noi ci vediamo più tardi. Arrivederci. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS